Ops a tutti, miei cari obsine, obsine, come state? Come state, come state, come state? Spero molto, molto bene. Oggi, 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 oggi sono qui, 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 solo per voi, solo per voi, solo per voi, per riuscire ad intrattenerti, a non farti perdere l'attenzione. Infatti questo sarà un video interattivo per non farti perdere l'attenzione. Bene, quindi ti divertirai, ti divertirai a guardarlo, ti divertirai, ti divertirai. Ma adesso, subito, subito, prima di cominciare, indossa un paio di cuffie o auricolari. Quindi, stenditi, stenditi sul tuo letto e cerca di dormire, dormire, dormire. Ma rimani concentrato, perché secondo me sarà divertente. È un video che non ho mai fatto, quindi ci proveremo oggi. Intanto, come potete vedere, sono riuscito ad avere uno sfondo tendente al verde. Questo, penso, sia lo sfondo più verde che io possa riuscire a fare, per non far difetto con le luci. Perciò, cominciamo. Oddio, sono super emozionata. Allora, ok, ci sei? Adesso, concentrati. Di che colore è questo evidenziatore? Ok. Di che colore è questo evidenziatore? Ok. Li vedi? Li vedi? Perfetto. Adesso, segui con lo sguardo solo quello che ti piace di più. Scegli uno dei due quello che ti piace di più. Solo quello che ti piace. Non concentrarti sull'altro. Concentrati solo su quello che ti piace. Guarda solo quello che ti piace. Guarda solo quello che ti piace. Guarda solo quello che ti piace. Guarda solo. Cerco anche di restare nell'inquadratura. Segui solo quello che ti piace. Aumento un pochino la velocità. Non distrarti, non distrarti, vai. Che colore è questo qui? Perfetto. Li metto un attimino via. Adesso facciamo qualcos'altro. Facciamo qualcos'altro. Vedi il mio dito? Vedi la punta del dito? Questa qua. Adesso la metto qua. Tu guarda la punta del dito. La punta del dito. Perfetto. Resto di qua. Guarda qui. La punta del dito. Guarda il dito. Continua a guardare il dito. Segui i movimenti. Segui i movimenti del dito. Qua. Non distrarti. Guarda qui. Guarda qui. Guarda la punta del dito. Proprio qua. un po' più vicino. Guarda. Guarda solo, solo, solo la punta del dito. Ok. Ok. Sei concentrato? o concentrata? Concentrati. Adesso faremo un giochino un po' diverso. Ho qua due penne con lo scatto. Non so come si chiama. Ok. Ti ho fatto sentire il rumore di questa e poi di questa. Adesso io te le metterò fuori dall'inquadratura. Come vedi qua di lato. Fuori dall'inquadratura tu dovrai dirmi da che lato senti il suono. Proviamo. Iniziamo col da che lato senti il suono. Sono qua. Le faccio uscire. Ok. Bravissimo. O bravissima. Adesso le tengo fuori dall'inquadratura ma qua sotto. Ridimmi sempre da che lato lo senti? destra o sinistra? Benissimo. Benissimo. Perfetto. Adesso le tengo un po' più vicine qua. ma tu chiudi gli occhi. Chiudi gli occhi. Sempre dove lo senti il suono? Perfetto perfetto. Perfetto perfetto. Perfetto perfetto perfetto. Concentrati. Concentrati qui. Adesso Adesso tengo solo questa e adesso cosa devi fare? Devi contare le volte che faccio il suono, quindi così, uno, due, capito? Ogni volta che lo clicco io adesso farò dei visual trigger qua sulla telecamera Per cercare di confonderti ma tu non ti sconcentrare E conta quante volte faccio il suono Faremo delle breve pause poi Vai cominciamo Quante volte l'ho suonata? Quante volte ha fatto Tic la penna? Esatto Dai, dai che riesti, stai concentrando, non sei sconcentrato o sconcentrata Quindi adesso rifacciamo l'altra cosa dall'altro lato Decidi tu se guardarmi o tenere gli occhi chiusi Ma adesso concentrati Qualche volte senti il suono della penna? Stai a chiunca Otti Stai a chiunca Liñ不起 Liñuso Stai a chiunca Torona Quante volte adesso? Bene. Dai che allora sei concentrato o concentrata. Faccio poso anche da questa penna. Continua a focalizzarti su di me, su quello che faremo adesso. Fammi vedere cosa faremo adesso. Perfetto. Intanto se vuoi saperlo, che ore sono? Sono le 3 e 27. Perfetto. Ma adesso continuiamo il nostro gioco. Ho qua due scrangi. Di che colore è questo? E questo qui? Adesso faremo un gioco. Scrangi rosso e scrangi blu. Io adesso li mischierò dietro la schiena, li tirerò fuori e poi tu dovrai dirmi in quale mano si trova quello rosso. Quello rosso, 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 uoco. Ok? Ok. Cominciamo così. Io adesso li mischio, li mischio, li mischio, li mischio. Pronto? Pronta? In quale mano si trova lo scrangi rosso? Hai indovinato? Fammi sapere se hai indovinato. Adesso ci riproviamo. Non ti preoccupare che ci riproviamo. Di nuovo gli scrangi. Ok. Ci sei? In quale mano si trova lo scrangi rosso? Hai indovinato? Benissimo. Adesso lo facciamo un'ultima volta. Poi le mischio qua dietro la schiena. Faccio anche veloce così li confondo anche io. Ok. Non so veramente dove siano adesso. Perciò... Perciò... Dove si trova lo scrangi colore rosso? Non so. Hai indovinato? Benissimo. Non riesco a tenerli in mano. Perciò... Perfetto. 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 Li metto via. Anche perché abbiamo altre cose da fare. Altre cose da fare. Quindi... Uh... Questo qua mi piace tantissimo. Guarda cos'ho, un po' c'è il telefono più in qua, guarda cos'ho. Adesso con questo metro da sarta cosa dovrò fare? Io ti farò vedere un piccolo pezzo, una piccola striscia con dei numeri, te la metterò qua davanti. Tu dovrai dirmi il primo numero che vedi, non importa se in alto, in basso, al centro, il primo che vedi. Ricordati, non c'è una risposta giusta, una risposta sbagliata, sono tutte risposte giuste. Quindi, pronto o pronta? Ok, vai, il primo numero che vedi? Perfetto, perfetto. Adesso, qua, il primo numero che vedi? Perfetto. Il primo numero che vedi? Perfetto. Adesso di nuovo, il primo numero che vedi? Perfetto. Che bel suono che ho. Adesso, il primo numero che vedi? Di nuovo. Perfetto, perfetto. Di nuovo. Perfetto, un'ultima volta, il primo numero che vedi? Perfetto. Concentrati adesso sul suono. Vai così. Adesso chiudi gli occhi, ascolta questo suono e se viene dal tuo orecchio destro, piega l'orecchio verso destra. Per voi che state guardando la vostra sinistra, però, orecchio sinistro, facciamo così, piegate la testa a sinistra, orecchio destro, piegate la testa a destra, ok? Quindi, concentrati. Bene. Molto bene. Bene. Perfetto. Perfetto, perfetto, perfetto. Ok, adesso, ancora concentrato, resta concentrato su di me. Adesso devi contare quante volte passo il pennello davanti alla telecamera. Concentrato, o concentrato, rimani concentrato. Rimani concentrato, rimani concentrato. Rimani concentrato, rimani concentrato. Perfetto. Quante volte? Ok, ok. Adesso continuiamo. Continua. Rimani concentrato, rimani concentrato, rimani concentrato. Quante volte? Questa è stata più corta. Le contate tutte? Benissimo. E adesso sommate a quelli di prima quanto vanno. Perfetto, perfetto. Posiamolo. Facciamo adesso, cambiamo subito, così rimani più concentrato. Rimani concentrato. Adesso facciamo un'ultima cosetta. Ho ripreso gli evidenziatori. Tu adesso devi guardare qui, 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 la punta del mio naso. Io mi muovo. Tu guarda la punta del mio naso. Non guardare quello che sto facendo con le mani. Continua a guardare la punta del mio naso. Continua, continua. Continua, continua. Continua a guardare la punta, proprio qui, la punta del mio naso. Non ti concentrare su altro. Non ti concentrare su altro. Non ti concentrare su altro. Dai, va più che bene. Ti ho tenuto concentrato per un po'. O concentrata. Per un po'. Adesso, adesso, adesso. È arrivato il momento di salutarci, però. Quindi, cucù. 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 Adesso, tocca a te. A te, a te, a te, a te. Se questo video di concentrazione ti è piaciuto, iscriviti al canale qua sotto per entrare a far parte della mia community. E se sei un maschietto, diventare un mio psino, mentre se sei una femminoccia, diventare una mia psina. Mi raccomando, iscriversi è gratuito. Quindi, se vi piacciono i miei video, e se ne volete vedere altri, iscrivetevi per non perderli. Poi, lasciate un bel mi piace qua sotto e commentate tutto, tutto, tutto quello che vi passa per la testa. In più, se volete supportarmi un po' di più, sempre nella barra qua sotto, dove ci sono i mi piace, i condividi, c'è un simbolo di un cuore con il dollaro, mi sembra. Sotto c'è scritto grazie, se non sbaglio. E quello serve per supportare un po' di più il creator. Si può fare una piccola donazione di soldi. Penso che la cifra la potete decidere voi. E serve appunto per supportare il creator in questione. Ma il video di oggi finisce qui, quindi se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist e qua, da qualche parte sullo schermo, il tasto per andare sul mio canale. E vedere qualunque video vi vogliate, va bene? Adesso, rilassati, rilassati, rilassati. Chiudi gli occhi, cerca di dormire, va bene? Un bacio. Buonanotte, 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 buonanotte.